con quello di un carico per la prima se lontano vedo perchè si registrava inizio giro si si e iniziato io sono ora all'ultimo all'ultimo città ok un giro e mezzo io posso fare riusciamo a fare qualcosa la vedo dura ma ma rallentatemi ma già vuoi si affittata 7 decime al primo settore che mi ha buttato i coni dai ecco ho preso venito a me ciao io ho un decimo al primo settore per ora il problema è che ora il rettrino ne sciusco come un salame non ricordate il positivo è che partendo l'ultimo direi che deve avere tipo un botto di scia cioè non solo l'ultimo però però poi devi passarli quello è il problema e questi tanto scarsi non sono alcuni no no li conosco di data non ha senso non ha senso sta cosa infatti pare che mi sono già peggiorato io ho preso sicuramente penalità no io però l'ho come un opzionale a un 4 e 0 io vabbè io opzionale non parlo te devi stare zitto se no in curva 1 faccio drive bomb ho fatto con le medie ho opzionale 56 e 2 ti prego ti puoi fucilare io ho sette decime e almeno partirei davanti boh io non so che tempo sto facendo 2 1 fine Q ma ma io se l'ho attaccati a culo però che pizza cioè a dire che io ho provato velo più il passo gara quindi non mi preoccupo io avrò una penalità sulla qualifica ma fa niente sto vedendo è cinque decimi ma tanto ti si aggiunge a fine giro si lo so lo so fa niente cioè mezzo secondo non mi cambia comunque dovrei superarla mi hai fatto solo di acquistare buongiorno non stai l'olio chicano ordo ma quanto carburante avete? io avevo fatto al pieno ma fa culo questo è il mio ultimo giro eccolo ren orca puttana